Allora, stavamo chiacchierando fuori onda con lei e diceva che ci sono alcuni aspetti che diceva la dottoressa Prescara che riscontra che hanno una grande importanza, che però molte volte bisogna andare un po' a stimolare la sensibilità delle persone ed effettivamente a forza di dai, dai parlando ogni settimana di queste cose eccetera, mi sono resa conto che alcune persone che ci hanno chiamato, che poi abbiamo ricontattato eccetera per verificare che il numero fosse corretto e così via non lo facciamo con tutti tranquilli perché i numeri fissi non li richiamiamo più perché effettivamente magari in famiglia uno non vuole comunicare che vorrebbe avere una visita insomma sono anche cose molto legate alla privacy, però molte persone, in molte persone si è insinuato il dubbio oddio, quello che io pensavo che fosse per me la normalità da molto tempo forse non lo è e quindi una volta che si insinua questo tarlo pernicioso forse devo farmi vedere forse è il caso che mi metta quei quattro denti che mi mancano e l'apparecchio che si muove sempre non è una cosa, la dentiera non è una cosa normale, si insinua perché effettivamente poi parlando di volta in volta viene fuori che la normalità potrebbe essere tutta un'altra cosa che uno non ricorda neanche più perché una volta andato in pensione, tribolato il tribolabile durante il lavoro che non aveva tempo magari neanche i soldi, poi questa cosa diventa più importante, è sentita, però tante volte va pungolato Sì, io sono sempre comunque dell'idea che bisogna sentirsi bene per sentirsi bene fisicamente non è un vestito, non è un paio di scappe che se uno le fa male le mette via, ma la bocca fa male sempre fa male sempre anche se ha dei denti che sembrano perfetti ma di fatti possono avere qualche problema prima accennavano il discorso che la questione denti ha dei riflessi collaterali con altre parti del corpo io questo l'ho saputo oggi e me ne farò atto che effettivamente bisogna darci credito alle persone quando si presentano con la propria faccia e dicono alcune cose o propongono alcune cose non le propongono astrettamente, le propongono perché sono convinti di quello che vanno dicendo in sostanza io sono altamente soddisfatto non dell'operatività perché io non ho ancora in assoluto avuto l'occasione di parteciparvi ma vedere che già l'ambiente sistema l'occhio in sostanza questo io invito a provare, a tentare non nuocere e provare a volte si si azzecca è bravo infatti, tante volte vuole buttarsi al di là dell'ostacolo perché lo si dice sempre però per moltissime persone il dolore è un fattore, un deterrente ed è legato ad esperienze magari diere diverse in cui però il dolore si sentiva cioè dentista dolore, dentista dolore, era un abbinamento e questo però voi avete cercato di soperire in modo importante perché abbiamo avuto addirittura, se non so chi di voi dopo rispondemi abbiamo avuto anche in studio un anestesista che ha curato questi aspetti insomma state attenti anche a questa componente sì, alla sedazione cosciente sedazione cosciente che utilizziamo soprattutto per i fobici ecco che proprio raccontava che è lo stato d'ansia sì, fanno invece questa sedazione cosciente che appena finita, terminata uno ritorna subito vigile e quindi si affrontano gli interventi senza paura senza paura ecco allora io ci tengo tanto a dire questo per noi nessun aspetto è secondario nessun aspetto che il paziente ci rileva è secondario che sia paura che sia paura invece di non trovare quelle che sono le aspettative la soddisfazione delle aspettative e questo veramente vi invito perché non posso dimostrare qui in televisione come lavoriamo avete conosciuto i nostri professionisti avete conosciuto il professor Cordioli avete conosciuto altri medici bravissimi ma io vi invito veramente a venire in studio da noi ma senza remore, fatevi una visita, fatevi fare un preventivo così potete subito constatare quali sono i nostri prezzi venite senza paura sappiate che io sono a disposizione per qualunque forma di personalizzazione dei pieni di pagamento ci sono, sono una persona che veramente ama il proprio lavoro e ama stare con i pazienti che non sono clienti è un'altra categoria di persone quando si parla con un paziente si parla con una persona che sa che ha del dolore che potrebbe averne ma che ha il desiderio di risolvere le proprie problematiche e poi l'altro aspetto è la qualità assolutamente è imprescindibile per noi è imprescindibile assolutamente imprescindibile noi lavoriamo dando qualità è la nostra preoccupazione più grande perché come dicevo l'altra volta siamo fermamente convinti che nel futuro resisteranno di queste strutture solo quelli che danno qualità solo queste avranno saranno ad incidere veramente nel tempo e nel territorio gli altri purtroppo quando le cose non vanno i pazienti se ne accorgono per cui col passaparola poi la gente non ci va assolutamente io non voglio perorare quello che ha detto la dottoressa in questo momento però la qualità e la sicurezza non la dà un avventuriero bisogna pensare sempre dove si deve andare ma soprattutto vedere no questo senza dubbio anche se uno non ha detto i lavori però si può già render conto perché insomma da dentista bene o male c'è stato e si rende conto l'altra componente è il fattore lo vedevamo anche nelle immagini della pagina web l'estetica l'estetica è certamente una componente interessante per le persone anche questi servizi come veniva ricordato sono fruibili sono fruibili all'interno non c'è solo l'estetica di pura bellezza o di puro sfizio che uno è libero di farsi per carità non gli diciamo di no c'è quell'estetica più importante della qualità delle relazioni che può essere garantita da una bocca in ordine che non abbia un problema di alitosi che non abbia il problema del dente mancante o del dente troppo scuro cioè sono tutte cose che si possono sistemare e consentire alla persona di essere sicura di se stessa l'altra cosa che volevo ricordare di cui siamo ovviamente orgogliosi perché è la nostra natura noi siamo cooperative sociali aderenti al sistema delle centrali cooperative a Lega Coop Veneto e a Conf Cooperative e abbiamo un rapporto molto consolidato con cooperative sociali sia in Friuli Venezia e Giulia sia nel Veneto in particolare nel Veneto a Padova ci stiamo muovendo con la CODES sociale che è la più grande cooperative sociale ONLUS del Veneto operante in Veneto e in altre regioni come a Verona lo facciamo con la cooperativa sociale ONLUS a Zalea sono cooperative che spaziano dall'infanzia ai nidi alla disabilità agli adulti agli anziani alla ristorazione dentro queste collaborazioni stiamo perfezionando una politica di prevenzione e di orientamento agli specialisti che vanno oltre l'odontoiatria ma si rivolgono alle altre specializzazioni anche grazie ad un rapporto molto importante che si è determinato a Verona da parte della cooperativa a Zalea con oltre la metà dei medici di base quindi questo significa che a partire dal medico di base tu puoi essere seguito e orientato in una gamma di servizi nel territorio che tendono quindi a sostanziare quella politica di prevenzione nel territorio anziché ospedalizzare il paziente dovrebbe esserci poi infatti la cosa che tante volte si lamenta viene a mancare il coordinamento con i medici di base sembra che il mondo denti sia una cosa completamente staccata che non abbia nulla a che fare sono cose su cui stiamo lavorando e spero che nell'arco di poche settimane possa essere l'occasione per una nuova trasmissione dove poter illustrare queste evoluzioni della nostra social dento assolutamente un'altra questione per le persone particolarmente anziane che non hanno possibilità di farsi visite specialistiche di vario genere ci sono interventi o il medico dentista che fa la visita per i quali la patologia cardiologica o altre patologie possono essere preclusive per non so degli interventi importanti naturalmente non si parla di carie o quant'altro anzi quando ci sono dei problemi a livello cardiaco molto spesso sono i cardiologi stessi che dicono al paziente vai dal dentista fatti bonificare la bocca perché devi togliere tutta la parte infettiva perché dobbiamo ricordare che i batteri non è che rimangono localizzati lì in bocca ma entrano in circolo nel sistema abbiamo visto anche delle immagini nelle trasmissioni passate di situazioni disastrose assolutamente poi a me piace tantissimo quando ascolto i medici in ambulatorio che appunto spiegano i pazienti che tenere sempre il sistema immunitario in allarme perché c'è un'infezione questo lo stressa in qualche modo per cui quando magari deve funzionare realmente magari il sistema immunitario è un po' stressato come sento dire da loro per cui è fondamentale d'altro canto non accetteremo mai di avere una ferita infetta su un braccio andremo subito al pronto soccorso quindi non capisco perché si possa tenere del pus e a volte basta solo toccare le gengive e esce tutto questo pus appunto dalle tasche queste sono situazioni che mettono veramente in una cattiva salute tutto il sistema del paziente non solo la bocca quindi fare le visite fare i controlli è fondamentale per tenere un corpo sano assolutamente siamo giunti alla termine ti è giunto un'ultima battuta? beh vi aspetto poi dopo li incontrerete in tutti i medici allora io vi ringrazio ringrazio anche lei di averci raggiunto di averci supportato un'esperienza diretta Giovanni Speranza e la dottoressa Pescara speriamo appunto di avere altre opportunità per fare altri approfondimenti che sono estremamente importanti e abbiamo visto che poi si insinua a questo benedetto Tarlo che fa riflettere sulla propria situazione mi raccomando stiamo parlando di salute non di cose meramente così voluttuali ma determinanti e importanti per una buona e serena vita grazie e buon proseguimento ci vediamo domani arrivederci lì 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 Grazie a tutti.